Cosa? Immediatamente intanto provererei il super bonus perché penso che sia l'unico vero elemento di crescita economica immediato. I problemi in Italia non sono tanto le intenzioni, ma quanto i tempi e le norme che annullano le intenzioni. Per cui vorrei vedere il Governo, questo sì, che si mette a lavorare sull'accorciamento di queste misure, di questi tempi e norme per accelerare l'utilizzo della spesa. Perché non è più una questione di soldi, è una questione di tempi. Ha assolutamente ragione. Grazie al Presidente di Ance Buia.